Si è un botto hype questo No, è un botto hype Cazzo è vero, è ficare Adesso non me lo ricordo di faccia Dai, è ficare più corso Si, si, ok, però lo voglio rivedere Allora, subito al 50% Un attimo che mi sono distratto E 58 Allora, questo matchup L'ho giocato un botto di volte Affrontando il me con Falcon Lui ha preso molte volte Ridley E ho visto un po' quello che succede Che succede? Che Falcon, che ridere gigantesco Quindi è combo food Cioè, è proprio enorme Quindi basta che entra una volta E è capace di cacciare fuori veramente un 70% Così Se non la stock direttamente Il contro qual è? Che c'ha, come dice Maggie With big hitboxes Comes with big altre stronzate Che dice Maggie Cioè, con hitbox grosse Faccio tanto male Arrivano anche con big artbox Come with big hitbox Non so parla inglese, ragazzi Ma vabbè, è un po' più british di noi Esatto, cioè È enorme E può fare queste porcate Però Mi era anche tanto lontano Controliate ciavelo Io vorrei una cosa Ci ho parlato due volte Di quella frase E me ne è entrata una Vabbè, ragazzi Mi importa Vabbè, tranquillo Marcello Mi importa Adesso sono contemporaneamente Ficar Marcello Caparezza Quello che vuoi tu Non solo Il recupero di Ridley dal basso È parecchio difficile da challengeare Bellissimo che col Bayer Sì È difficile farlo con lo stomp Perché Bevi proprio tra i d'arci Cioè, ci traiti Ti colpisce E lui viene spagnato E molte volte vince lui Però è difficile da amarlo Perché è grosso E non te lo aspetti Quindi una delle cose buone che puoi fare È scendere Magari scende e fai Bayer Esatto Esatto Scendere di lato Poi Questo neutral B Mi sembra abbastanza ansidioso Perché mi sembra Tanti, tanti Tanti Sulla curva della QB Sul recupero Rischia tantissimo Captain Falcon Perché ovviamente Basta una infocata Una Messa per bene Io sinceramente Penso che dovrebbe scegliere tutto Che tranne che delle piattaforme Perché Ridley Essendo tanto grosso Ha difficoltà a scegliere Ok Quindi magari Si può grappare Sia sulle piattaforme Che magari Cercare l'app smash Ancora vivo Ancora vivo È però Questa è la presa Che chiude la storia Bella sta mossa Con una sedia finissima Attenzione dojo Spoggio Guarda di faiar Ah peccato Si è stannato Praticamente da solo Con quella mossa Il faiar È aspettato E se lo prendeva Steps smash Esplodeva Nei dati di gioco Sì Questa è pericolosa La faiar C'è una combo Per cui è true Non mi ricordo Da cosa Quali sia setup Per il quale La faiar è true È una certa percentuale D Ma è molto D D Mi avevo scoperto Che c'è una combo Che penso Che sia true La maggior parte La volta che la provate È entrata Forse con la di buona Si lascia uscire Però con la sweet spot Della faiar Finisce E via È tutto aperto Basta l'apertura Ci vuole poco Per me Che per trovare Una rita Ci vuole veramente poco Se ti ha studiato È brutta È veramente brutta Per esempio Ha fatto i compiti a casa Ha fatto i compiti a casa Vediamo un po' Perché capito Tu ti viene da scudare Quando sei lì Ovviamente Ti viene da scudare Ancora vivo Ancora vivo Ti viene da scudare Perché chiaramente Da Da'anti il tip Era appesi Sì ok Con buona dire Perfetto Ma scusa Ma l'orisauro È morto Chi è? Peccato Non se l'aspettava Evidentemente Chi è l'orisauro? Non lo conosco Non c'è mai giocato Penso di persone L'ori mi viene in mente L'ora Pensavo che era Laura Allora Ma non faccio Ok Se si stanno Se si stanno La mascherina Non sai che l'ultima volta Ciao Ti ho salutato Lo ne so È Laura Non è Ma chi è? Secondo che? Gandix C'ha l'immagine Ness C'è Subbato A best Ness Gandix Mamma mia Io l'ho detto Io l'ho detto Perdone al nostro Armo F18 Armonica superiore Quanti nomi c'ha Armonica follea Armadio Dopo dopo Penserà Armadio intenso Come non Prende a punirlo Penserò Riesce con uno spandaggio A uscire A evitare il side B Che tanto si attiva 7 ore Con 7 ore di ritardo E Non siamo online Quello è il problema Quindi qui è brutta Qui bisogna vedere Se 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 Meghe download CDG O CDG download Da Meghe E questa Vabbè Sta zitto Però nel senso Oh mio dio Penso che l'abbia salvato Penso che sia morto comunque Però penso che l'abbia salvato Sta salvato Dove l'abbia scappo il bear Aveva sbagliato la direzione Della Ed era Ed era di conseguenza morto Bello Non basta Bravo Gandix Che sopporta Twitch Si Beh che Colpisce La Povera testolina Di Captain Falcon Tanto Bella E via Cos'era Tru Sì 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 Questa Raga Ecco Laura L'ho chiamata Si comincia Tipo un rito Ma inizia a chiamare il Fepa Come quel giorno Ah sì Sì come no Ha scritto penso E lì ha detto che sembrava Ficarra Sì infatti Ah ok Questo non si può Il dash attack di Ridley Non si può Otrannare E' un fastidio Ciao Laura Ah l'ho risa Ho appena incontrato Laura Hai visto Quindi tu non sei Laura Sei la sorella di Laura Friamo di Laura Sì sì la sorella di Laura Il clone Evil Laura Laura 2 Sì Sì Va bene Penso che qui CDG abbia bisogno di Di trovare una dei suoi setup Per chiudere Ma sto da un smash Prendi due frame Sì 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 Prendi due frame 3, 4, 5 Prendi l'8 post Metà paese Fa quello che ne vuole È enorme È enorme quella affare È veramente enorme Infatti ogni tanto ci prova a farlo Mamma mia Non è entrato Non l'avrebbe ucciso Però lì ci poteva stare Sia un bear Che avrebbe portato Poi in situazione di edgeguard Che tutto il resto Comunque E la spike Cioè Però me lo sapevo Me lo sentivo Porca miseria Ah no certo Ci prova Capito perché Forse questo è meglio Siccome devi stylare il falcon Ci prova Il mezzo di me Va bene Va bene Mi pare i conosciuti Stylare un falcon È sempre una cosa bella Perché in teoria Succede a te Tanto quando va lì Quando va lì sotto Notare il O Con l'H finale A quel punto c'è poco da fare Cazzo Sembrificare Vero Beh Allora con questo taglio Che stavendo qua Sì Lui è sempre così Letteralmente sì Guarda che è il best trombatore È un figaro Sono d'accordo Assolutamente Lo so Io ero il bancone Comunque Inizia la combo Ancora Non entra il layer Che cosa succede Ancora Al bordo È partito È decollato Dio mio È cattivissimo Il gambrino Stasera Bello Ancora Ancora Pensa Che ha letto Quell'approccio Quell'air dodge Ragazzi Lo sapevano Sei anni fa E ha cancellato Tutto quanto Quel contagio Preso prima Con solo questo Air dodge Cattivissimo Mamma mia Quindi Brutta A questo punto Cercate però Sì Era 50 Ma chi è fregato Ma chi è fregato Ma era 50 E via Sweet spot Non uccide di poco E questa Non è ancora Sufficienza E via Bello 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 Ma è pesante Guarda che Falcon E Ridley Sono pesanti Più o meno uguali Se mi fanno A cavolare Quindi No Il problema è che Ridley è che È troppo leggero È quello Il fatto Sì Ridley dice No Dai peserà Al minimo No Qui Bravissima Però Noi sta lasciando tempo Di tornare a un stage Dai che si butta Perde un po' Il stage controllo Ma evidentemente Mi ha fatto solo Un favore Perché è stato Di nuovo al centro E aspetta solo L'occasione Per pulire Falcon Ridley Piesa quanto Wario Se non mi sbaglio Wario È 108 Wario Come niente E Ridley 107 Non lo so Comunque È imbarazzante Uguale Poi vabbè C'è la guerra Politica Ancora The Pikachu E Mewtwo Che pensano uguali Non l'ho capito No Era tirato Un po' presto Si è staccato Si è staccato lui Eh Ci ha riprovato Ci ha riprovato Ci ha riprovato Ma si è preso la spike Ragazzi Non gli è stato bene Sicuramente si è stato Staccato Non gli è stato bene Ancora Non si ferma Però 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 Non l'hai detta Non l'hai detta Mamma mia Come ha detto Deve iniziare qualcosa Deve iniziare Deve iniziare a zero Deve iniziare Io ci credo Io ci credo Io ci credo Io ci credo Oh No Ho cercato di challenge L'ho morito Si è uscito Challenge Dalleggiarlo Air dodge Per i vasti Dalle scatole Che ha paura Ha paura E qui Qui ha paura Che penso Che Maggie Gli leggerà Mamma mia Gli leggerà Stavo dicendo Uno spot dodge Honor dodge Oh E la hitbox gigantesca Prende ovunque E chiude così Col 3 a 0 Questa winner finance Ragazzi Non c'è stato niente Da fare Grazie